Salve a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata del video podcast di Pandora Rivista. Oggi siamo qui con Ivana Paes, professoressa ordinaria di sociologia economica all'Università Cattolica di Milano. Ivana fa ricerca su lavoro ed economia di piattaforme, ha pubblicato negli ultimi anni moltissimi articoli scientifici, contributi in volume, facendo ricerca su argomenti come il lavoro collaborativo, per esempio il co-working, su piattaformizzazione, che è proprio l'argomento di cui parleremo oggi, sia appunto di sharing economy ma anche di servizi di welfare. Ho già anticipato velocemente l'argomento della nostra conversazione di oggi che sarà su piattaformizzazione dei servizi di welfare e di conseguenza anche la riorganizzazione della governance dei servizi di welfare e il ruolo degli attori di questi servizi. vi ricordo nel frattempo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi ai nostri canali e possiamo partire dopo la sigla. Benvenuta allora Ivana, partirei con una prima domanda di definizione di questa parola chiave che ci accompagnerà nel nostro dialogo. Se ci racconti, ci spieghi cosa si intende per piattaformizzazione dei sistemi di welfare. Grazie innanzitutto per l'invito. A Pandora vi siete occupati da qui il numero sulle piattaforme e insomma in quel numero tra l'altro si trovano analisi molto ricca su come le piattaforme stanno costruendo una nuova infrastruttura della nostra società e questo ha un impatto a livelli diversi nel senso che noi usiamo il termine piattaforma per indicare tante cose diverse. Lo usiamo per indicare l'infrastruttura proprio digitale, tecnica, tecnologica e la usiamo per indicare le aziende che usiamo tutti i giorni nella nostra quotidianità per accedere ai più svariati beni e servizi, le chiamiamo piattaforme. L'elemento forse di originalità dell'approccio sociologico alle piattaforme è invece guardarle come modello organizzativo. Quello che sta facendo la sociologia è interrogarsi proprio sulla piattaforma come nuova struttura sociale che sta definendo delle nuove norme, norme sociali, quindi non solo anche norme giuridiche ma prevalentemente norme sociali che regolano le nostre interazioni e la nostra vita quotidiana. Allora noi questo lo vediamo a tanti livelli diversi e la ricerca di cui mi sto occupando e di cui parleremo oggi guarda al ruolo, l'impatto, la presenza, il tipo di utilizzo delle piattaforme nel settore del welfare. Il settore del welfare perché? Il settore del welfare l'abbiamo trovato particolarmente interessante perché in particolare noi guardiamo proprio i servizi per la persona e quindi una dimensione di cura che se è sempre stata rilevante forse dopo la pandemia tutti noi ci si è resi conto della rilevanza della dimensione di cura e quindi c'è una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità, c'è anche una maggiore proprio urgenza di riflettere sulle questioni relative alla cura, il settore quindi anche economico e le professioni che si occupano della cura sono in una fase di profonda trasformazione e noi stiamo andando ad analizzare qual è l'impatto e il ruolo delle piattaforme in questa trasformazione. Nel dibattito sulle piattaforme finora si è parlato molto di più di alcuni settori o di alcune professioni o alcune attività professionali che sono in qualche modo più evidente. È comprensibile ed è anche giusto che ci sia stato un dibattito molto acceso proprio anche in termini di dibattito pubblico sui rider per esempio. Un dibattito legittimo e importante, non voglio dire che non sia importante. Dopodiché l'attenzione pubblica si è concentrata molto sui rider anche perché girano per le nostre strade con giacche fluorescenti e quindi è abbastanza impossibile non rendersi conto di quello che sta succedendo in quel settore, in quella professione, in quei servizi. Il lavoro dei sociologi e ritengo anche di altre professioni che si occupano di queste questioni con approcci diversi, anche appunto tutto il giornalismo, la comunicazione, il dibattito pubblico, è andare a esplorare quegli ambiti che forse non ci ritroviamo con giacche fluorescenti in mezzo alle nostre strade ma che stanno affrontando una profonda trasformazione, dei profondi cambiamenti, sono più nascosti, sono invisibili e hanno delle implicazioni forse anche più ricche. Un conto è consegnare una pizza a domicilio che ha tutta una serie di implicazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la tutela e la sicurezza del lavoro ma come servizio in sé, per esempio dal punto di vista relazionale, la relazione che c'è tra la persona che consegna la pizza e la persona che riceve la pizza, insomma è una relazione necessariamente povera ed è giusto che sia così altrimenti la pizza si rapprenderebbe se ci si mettesse a chiacchierare troppo durante la consegna. Ci sono invece altri ruoli e altri lavori in cui la relazione tra professionista e beneficiario, utente e cliente del servizio invece è rilevante. Le professioni di cui noi ci stiamo occupando, su cui stiamo facendo ricerca sono babysitter, badanti, psicologi, medici ed è evidente che lì la relazione conta tanto e allora studiare il ruolo delle piattaforme è interessante appunto anche perché svela delle dinamiche che riguardano una relazione complessa. Perfetto, hai già anticipato un sacco dei dei temi che toccheremo oggi. Prima di approfondire, visto che hai menzionato anche appunto il ruolo della sociologia nello studiare queste forme organizzative e spesso purtroppo ancora non si sa comunemente cosa significhi fare ricerca sociologica, ne approfitto visto che ti diamo qua per chiederti come sei arrivata tu da sociologa a occuparti di questo tema e nello specifico qual è il metodo sociologico che utilizzi per osservare le piattaforme? Allora noi, io ma noi come sociologi stiamo studiando le piattaforme da diversi punti di vista e con diversi approcci. C'è una specializzazione all'interno della sociologia che fa riferimento a un'area che si chiama Science and Technology Studies che quindi parte proprio più dal dispositivo tecnologico e va a studiare l'interazione delle persone con la macchina e delle persone tra loro nel momento in cui interagiscono con un dispositivo tecnologico. E questo è un approccio che appunto consente di vedere alcune dimensioni sia di uso degli strumenti ma anche per esempio di rifiuto dell'utilizzo dello strumento oppure di appropriazione diversa dalla modalità con cui i progettisti hanno studiato questi dispositivi. E su questo c'è tutto un filone molto interessante che noi anche con colleghi, perché questa ricerca la stiamo facendo in un team di ricerca e con colleghi che sono specializzati in questo approccio stiamo cercando di analizzare proprio questi aspetti. Io e altri colleghi del gruppo di ricerca, io sono una sociologa economica per cui come sociologi dell'economia e dell'organizzazione del lavoro, perché poi diciamo sociologia economica ma che tiene dentro tante cose, rispetto a questa ricerca il mio approccio guarda soprattutto all'organizzazione e quindi la domanda è la piattaforma appunto oltre a essere un'infrastruttura, oltre a essere un'azienda è anche un modello organizzativo. Questo pone tutta un serie di altre questioni perché ci interessa studiare l'organizzazione del lavoro attraverso piattaforma digitale, non solo per studiare servizi veicolati attraverso piattaforma digitale, ma perché abbiamo l'ipotesi di ricerca che ovviamente va validata oppure falsificata, vedremo, che questo modello organizzativo possa diventare pervasivo dell'organizzazione del lavoro anche in aziende tradizionali. Un po' come quando è stato studiato il Taylor Fordismo, è stato studiato all'interno di aziende automobilistiche con questa rappresentazione, non so abbiamo tutti i presenti film di Charlie Chaplin, il rapporto con la macchina che allora era una macchina diversa, ma l'idea della catena di montaggio, e lì era stato studiato un metodo di organizzazione del lavoro, il metodo scientifico, che è stato implementato in quelle aziende, ma che poi le cool logiche sono state poi adottate ovunque, anche in aziende non manifatturiere, anche in aziende senza la catena di montaggio, in tutti i tipi di aziende abbiamo riscontrato nei decenni successivi l'applicazione di quelle logiche all'organizzazione del lavoro. Allora la nostra, come sociologi dell'economia e del lavoro e dell'organizzazione, quello che ci stiamo chiedendo oggi è se questo modello piattaforma, che nell'azienda piattaforma presenta alcuni aspetti più evidenti, perché corrispondono all'azienda automobilistica del Taylor Fordismo, lì si vede compiutamente, si vede in maniera più esplicita, più evidente e anche anticipatoria rispetto ad altre dinamiche, noi andiamo a studiare quelle aziende per individuare però le logiche e per capire se poi queste logiche si possano riscontrare e possano diventare un po' pervasive dell'organizzazione del lavoro un po' più in generale. Chiaro, grazie mille. Tra l'altro quando hai nominato gli STS un aspetto che trovo molto interessante è anche l'agency delle tecnologie digitali, quindi il fatto anche che poi la loro presenza in questi modelli organizzativi influenza lo stesso comportamento delle persone che solitamente svolgevano quel lavoro senza il tramite della tecnologia, della piattaforma, dello strumento digitale e si trovano a dover cambiare anche le loro modalità operative e tornerà fuori sicuramente questo aspetto. Prima di procedere ti chiederei un'altra definizione o comunque di capire ancora meglio quali sono i punti principali che differenziano le piattaforme di sharing economy con le piattaforme di welfare. Tu hai nominato appunto prima i rider, in quale delle due tipologie entrano e appunto come si differenziano questi due modelli. Io ho iniziato a occuparmi di queste questioni un po' di anni fa, subito dopo la crisi economico-finanziaria del 2007-2008 abbiamo iniziato ad osservare le piattaforme, in realtà qualche piattaforma era già presente anche per come le rappresentiamo oggi, era già presente prima, però tutto il dibattito, l'attenzione pubblica, la visibilità e lo studio anche accademico è iniziato in quegli anni perché c'è stato un boom anche indotto da una situazione finanziaria e di finanziamenti disponibili per questo tipo di aziende che sono cresciute velocemente in quegli anni. Quindi c'è stata una convergenza di disponibilità di tecnologie, per esempio un avanzamento nell'ambito della geolocalizzazione in quegli anni, ma non solo, e di disponibilità finanziaria che ha fatto crescere queste aziende. In quegli anni quando si parlava di piattaforme, adesso appunto diciamo piattaforme, modello piattaforma, economia di piattaforma, società piattaforma, in quegli anni invece si parlava di sharing economy. L'etichetta, c'è stata questa copertina del marzo del 2013 dell'Economist che ha proprio messo in copertina la sharing economy e che ha portato anche a guardare con le stesse lenti una serie di fenomeni diversi che da lì in poi sono stati invece in un qualche modo aggregati e analizzati con le lenti dell'economia, della collaborazione e della condivisione. Noi abbiamo in italiano, l'italiano è ricco e a volte non lo valorizziamo abbastanza, noi abbiamo i due termini, cioè noi traduciamo sharing economy con collaborazione e con condivisione e la ricchezza semantica dell'italiano rende bene anche diverse accezioni di questo termine che invece vengono un po' schiacciate nell'idea di sharing economy. In quegli anni c'era stata la crisi economica, c'era anche un attivismo e anche una reazione, anche non organizzata rispetto a un modello economico che aveva dimostrato tutta una serie di problemi, era crollato in quel momento un modello economico e c'era una fortissima richiesta di un modello economico alternativo, appunto in forma organizzata con l'attivismo ma anche insomma una richiesta proprio condivisa a livello di vissuto delle persone. Quando sono nate queste piattaforme hanno da subito incorporato e fatta propria questa esigenza. C'è stata una fortissima aspettativa che queste piattaforme potessero essere utilizzate per proporre un modello di economia alternativa. In quegli anni c'era molta attenzione all'idea di modello economico veicolato attraverso piattaforma che permettesse uno scambio tra pari e questo rispondeva da un lato appunto a una crisi che aveva impoverito le persone che avevano meno risorse a disposizione e quindi erano anche disposte a pagare meno i servizi alla ricerca di soluzioni che costassero meno e allo stesso tempo era la ricerca di soluzioni per ottimizzare le risorse a loro disposizione. Il modello peer-to-peer rispondeva a questa esigenza e costruiva anche una ritorica anti-corporate che è stata molto importante in quegli anni. Intercettava un dibattito in quegli anni che iniziava e poi è esploso sul riuso e riutilizzo delle risorse e quindi un'attenzione alla dimensione anche dell'economia circolare che veniva incorporata in questo modello e c'era una forte spinta verso processi di democratizzazione, di partecipazione. Insomma, in quegli anni la sharing economy rispondeva a tutto questo e alcune aziende hanno incorporato questo ethos e hanno avanzato una proposta che appunto rispondesse a queste esigenze. in pochissimo il modello si è trasformato velocemente, i modelli che appunto avanzavano questo tipo di proposta con una forte attenzione anche per esempio da sociologi, ovviamente questo ci interessava di più, ha una dimensione relazionale e c'era una forte critica all'individualismo, la ricerca di modelli economici che invece favorissero la costruzione di relazioni tra le persone in occasione dello scambio di beni e di servizi. Insomma queste aziende hanno incorporato questo ethos ma poi negli anni successivi i modelli di business di successo sono stati quelli che l'hanno abbandonato questa spinta e si sono orientati più su modelli che dal punto di vista dell'organizzazione appunto del lavoro, dello scambio erano assolutamente tradizionali anche se usavano tecnologie innovative, magari c'era l'innovazione nel servizio ma nessuna innovazione invece nel modello economico, nel modello organizzativo, anzi abbiamo avuto tante aziende che hanno adottato quello che poi è stato definito un modello estrattivo che ha utilizzato le piattaforme per estrarre valore dalla relazione di scambio tra le persone e appropriarsi di questo valore senza redistribuirlo. Quindi siamo passati dal parlare di sharing economy al parlare di gig economy e tutta la critica che ne è consegnata. Una cosa interessante rispetto al settore del welfare è che è forse l'unico settore in cui ancora oggi si sente parlare di sharing, cioè andando a studiare la letteratura sul welfare di piattaforma si ritrovano un po' anche proprio quelle aspettative che c'erano anni fa in altri settori si ritrovano oggi ancora nel welfare. Di nuovo stiamo facendo ricerca, le ipotesi sono diverse ma metto in campo quelle prevalenti. Allora uno può essere, vabbè, il welfare è arrivato più tardi dagli altri settori e quindi riparte da capo e quindi rivedremo nel welfare quello che abbiamo visto in altri ambiti, nel turismo, nei trasporti e quindi si tratta solo di aspettare e questa attenzione alla dimensione sharing che c'è oggi nel welfare in realtà svanirà velocemente seguendo la stessa dinamica che abbiamo visto negli altri settori. L'altra ipotesi che è quella più interessante, insomma perché altrimenti si tratta di aspettare, è l'altra ipotesi che invece proprio la dimensione relazionale che caratterizza i servizi alla persona, la dimensione del servizio di welfare possa permettere potenzialmente, però è poi tutto da verificare, di implementare in questo settore quello che altrove invece non ha avuto successo e quindi se come gruppo di ricerca ci dedichiamo tanto a questo settore anche un po' per questo, per capire, per accompagnare questi percorsi e capire appunto se c'è anche uno spazio per muovere in quella direzione. Grazie mille, è una risposta molto densa e quindi colgo da questo che il principale elemento di differenza è proprio la presenza della relazione nelle piattaforme di welfare rispetto a quelle appunto che ho definito sharing economy. Allora visto che adesso arriviamo proprio a scendere nel dettaglio, nello specifico delle piattaforme di welfare, ci hai già raccontato molto di quello che succede, però ho ancora diverse curiosità su come, sulle implicazioni che questa piattaformizzazione dei servizi di welfare ha sul lavoro stesso di welfare, di cura, come l'hai definito tu prima e in particolare penso al ruolo degli utenti dei servizi di welfare e al ruolo degli operatori, quindi come cambiano entrambi questi ruoli, se cambia la modalità di approccio, anche di ingresso nella relazione di cura che si va a creare? Sì, allora noi abbiamo iniziato, questo progetto dura tre anni e siamo metà. Nel primo anno e mezzo, quindi la fase appena conclusa, abbiamo fatto un lavoro prevalentemente di mappatura delle diverse piattaforme di welfare perché termina un po' ombrello che tiene dentro tanti mondi diversi, per cui prima di, per rispondere alla domanda è utile forse capire un po' concretamente anche cosa c'è dentro questo mondo diverso dalle piattaforme dei welfare. Poi invece nel prossimo anno e mezzo e quindi abbiamo iniziato da poco, andremo a studiare nove piattaforme facendo degli studi di caso approfonditi, da cui spero di trarre più risposte alla tua domanda. Passo indietro, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato, facendo una mappatura delle piattaforme di welfare in Italia, abbiamo trovato circa un centinaio. Primo dato importante è che in questo settore ad oggi non c'è la grande piattaforma multinazionale, così come negli altri settori. Se nel turismo, non so, pensiamo a tutto il settore dell'accoglienza, c'erano altre esperienze, ci sono ancora qualche piccola esperienza nazionale, ma tutto sommato nel modello piattaforma quello che succede è che poi anche gli investimenti muovono in questa direzione, sono modelli che tendono verso il monopolio o l'oligopolio, per cui i settori più maturi mostrano una, due, tre massimi. Piattaforme tipicamente multinazionali, tipicamente nate nella Silicon Valley, hanno alcune caratteristiche perché alle spalle hanno gli investitori che sono capitale paziente, a differenza di investitori della stagione appena conclusa, in cui c'era un bisogno di ritorno agli investimenti veloce. Finora però le cose stanno cambiando adesso, per cui dobbiamo anche capire cosa succederà proprio nei prossimi mesi. Finora le piattaforme hanno avuto un capitale paziente a disposizione, che era paziente perché era disposto ad aspettare il raggiungimento di mettere investimenti e risorse per far raggiungere a quella piattaforma la posizione di monopolio, per cui Airbnb, per cui Uber, per cui Amazon, per cui vediamo in ogni settore c'è una piattaforma che raggiunge una posizione di rilievo. Ecco, nel settore del welfare all'estero ci sono, c'è care.com per esempio, ma Amazon stessa che ha aperto Amazon Care, che rappresenta la piattaforma multinazionale di riferimento. In Italia oggi non ci sono, bisogna capire domani. È importante e interessante capire oggi cosa succede anche in previsione di un possibile ingresso di una di queste piattaforme anche in Italia. Oggi non ci sono e quindi abbiamo una maggiore diversificazione, quindi il centinaio di piattaforme che raccontavo, una diversificazione così. Per esempio un altro settore, cambio velocemente argomento, ma per dire un altro settore in cui abbiamo un po' di presenza di piattaforme nazionali. In quel caso anche se ci sono le piattaforme internazionali è quello del crowdfunding, dove è uno dei pochi casi in cui c'è qualche piattaforma nazionale che funziona pure in presenza della piattaforma internazionale. E lì il motivo è legato al fatto che nella piattaforma di crowdfunding ci vai se conosci qualcuno, cioè la rete offline viene prima del passaggio alla dimensione digitale o viene prima o viene insieme. Mentre quando vai a cercare un passaggio in auto o un appartamento vai direttamente sulla piattaforma, in questo tipo di piattaforma di crowdfunding invece le relazioni sociali offline contano più in modo diverso rispetto a quelle altre. E potrebbe anche essere il caso per il welfare, per questo facevo l'esempio perché potrebbe essere un caso simile. Quindi abbiamo tante piattaforme diverse, ma tante piattaforme anche a governance diversa, che è l'altro aspetto di specificità di questo settore. Per cui abbiamo piattaforme promosse dai comuni, quindi pubbliche, la piattaforma fatta dal comune, il comune di Milano ha fatto la piattaforma di welfare, dove i cittadini milanesi vanno e cercano servizi di welfare, badante, babysitter, servizi di doposcuola eccetera. Abbiamo piattaforme fatte dal terzo settore e qui si apre un altro filone interessantissimo delle piattaforme cooperative. Quando dicevo della critica alla gig economy, la critica alla gig economy ha preso la forma e si è proprio un po' ritrovata del platform cooperativismo. È un movimento che è nato a New York intorno alla figura in particolare di un accademico e attivista, Trevor Schultz, che mette luce i limiti della gig economy e propone come soluzione una piattaforma cooperativa. Che cosa propone però il platform cooperativismo? Propone di clonare il modello tecnologico e di innestare una dimensione di governance cooperativa. Il modello tecnologico resta lo stesso. Se noi andiamo a vedere come è fatta per esempio Fairbnb rispetto a Airbnb, il modello tecnologico, proprio l'idea è clonare quel modello lì, innestare dimensione cooperativa. Quello che noi stiamo vedendo nelle piattaforme create dal terzo settore in Italia invece è la strada opposta. Partono dalla cooperativa e innestano la tecnologia. La cosa interessantissima qui è capire se la tecnologia che innestano segue il modello delle piattaforme alla Amazon e clona comunque. Oppure se il partire dalla cooperativa fa creare delle tecnologie che rispondono a delle logiche diverse e quindi crea una tecnologia diversa. Questa è la domanda di ricerca a cui vogliamo rispondere. Ultimo tipo di piattaforme che stiamo vedendo sono invece le piattaforme che nascono digitali, quindi come startup digitale pura, piattaforme che erogano quindi sul mercato privato direttamente servizi ai clienti finali, servizi appunto se restiamo negli esempi che facevo, servizi per babysitter, piattaforma per babysitter, servizi psicologici innumerevoli dopo il lockdown c'è stato il boom e stanno avendo un grandissimo successo, piattaforme per psicologi e così via. Oltre a, ed è l'ultima nicchia, è una variante ma con caratteristiche tutte diverse, le piattaforme di welfare aziendale che nascono come gestionali per fare rimborsi benzina, per gestire il welfare aziendale e che in questa fase alcune si stanno interrogando sulla possibilità di passare da un puro gestionale a una logica di piattaforma vera, è interessantissimo vedere anche il linguaggio, le piattaforme di welfare aziendale si definiscono provider, mentre nelle altre piattaforme la piattaforma si definisce piattaforma, i provider sono i provider di servizio sulla piattaforma, cioè ci sono dei giochi linguistici interessanti. Per chiudere, in questa mappatura di mondi di piattaforme diverse, quello che stiamo vedendo è anche un'ibridazione sempre più, insomma accelerata tra le diverse piattaforme, per cui queste che abbiamo, stiamo studiando come piattaforme separate, però poi si intrecciano sempre di più, per cui abbiamo le piattaforme, quelle private per babysitter badanti, che diventano fornitori per quelle di welfare aziendale, quelle del terzo settore che diventano fornitore per il pubblico, intrecci per cui una cooperativa crea la propria piattaforma, ma poi è fornitore dell'altra piattaforma. E questo sta a delle implicazioni più ampie, di cui si occupano all'interno del gruppo di ricerca gli esperti di welfare, cosa che io non sono, per cui mi affido loro su questa parte, che stanno andando a studiare anche un po' le implicazioni rispetto a questo settore dell'erogazione dei servizi alla persona, che insomma è in fortissima trasformazione e attraverso la piattaforma uno vede anche la trasformazione del settore. Ecco faccio solo un esempio, un aspetto che noi stiamo riscontrando con grande evidenza riguarda le cooperative sociali che fino a pochi anni fa avevano come unico quasi riferimento il pubblico ed erano fornitori del pubblico, per cui si rivolgevano anche in termini di linguaggio utilizzato, era il linguaggio dei bandi perché loro come linguaggio specialistico adottavano il linguaggio della pubblica amministrazione a cui dovevano rispondere, con cui dovevano interloquire per ottenere poi, per vincere dei bandi, delle assegnazioni che permettessero di erogare dei servizi a utenti selezionati dall'amministrazione locale. Quello che oggi sta succedendo è che con le piattaforme si vede, ma io su questo invito sempre la cautela, non solo le piattaforme che lo provocano, sulle piattaforme si vede e quello che stiamo vedendo sulle piattaforme è un riorientamento delle cooperative che oltre a continuare ovviamente l'erogazione di servizi pubblici attraverso assegnazioni, bandi eccetera, iniziano a rivolgersi sempre di più anche direttamente al mercato finale. Questo passaggio non è in dolore anche per i clienti e gli utenti finali, che se voi andate su queste piattaforme spesso nella descrizione del servizio uno trova il burocratese, perché prendono il linguaggio con cui sono abituati a lavorare ed è perfettamente comprensibile, non è una critica, è proprio un'osservazione di logiche, di meccanismi. Siamo uno abituato a costruire il servizio per parlare all'amministrazione pubblica, è chiaro che poi nel momento in cui invece deve parlare al cittadino deve cambiare linguaggio, ma questo richiede un processo, con delle resistenze che di nuovo sono resistenze legittime. Noi stiamo facendo delle interviste nell'ambito di queste cooperative in cui alcuni operatori resistono esplicitamente e io dico legittimamente a questo passaggio, perché? Perché a volte questo implica anche uno snaturare il lavoro dell'operatore sociale. L'educatore che è nella cooperativa ha scelto quel lavoro perché voleva svolgere certe attività e secondo alcune modalità. Nel momento in cui si trova a dover fare il commerciale, io ho fatto più interviste in cui ricorreva questa frase, io non sono un venditore, legittimo. Dopodiché però se il terzo settore è la cooperativa e entra in questa dimensione, in queste logiche di mercato, è evidente che deve farlo con competenze e professionalità specializzate anche nella vendita dei servizi, anche i commerciali servono. La questione è capire che cosa vuol dire creare questa figura. Su questo stiamo facendo un'analisi interessante perché ci sono delle operazioni, alcune pulite, altre invece più ambigue, in cui c'è la costruzione di nuovi ruoli, nuove figure. Per esempio noi stiamo esplorando molto il mondo del community manager o del welfare manager. Ecco, a volte, dietro l'etichetta community manager o welfare manager, si cerca di fare un'operazione di riconfigurazione della professione, in cui però spesso poi gli operatori, soprattutto in caso di aggiornamento professionale, non di inserimento di un giovane che entra in una professione sapendo che ha questo aspetto pure quell'altro e che deve rispondere contemporaneamente a due logiche diverse. Ecco, in caso di riconversione questo provoca delle resistenze che, ripeto, secondo me sono legittime e sono tipiche di un mondo in trasformazione ibrido in cui questa ambiguità a volte cade sulle spalle degli operatori del settore che giustamente poi appunto cercano di bloccare e vengono percepiti come la persona che blocca l'innovazione. Invece non sono a volte messe nelle condizioni di lavorare correttamente per implementare delle innovazioni. Sì, è molto interessante e mi ricollego a quello che dicevi che le piattaforme rendono visibile tutto questo, perché appunto occupandomi io di terzo settore, di pubblica amministrazione e ultimamente analizzando vari processi di co-creazione anche tra stakeholder diversi vedo queste dinamiche anche non solo sulle piattaforme, cioè io non studio le piattaforme ma le vedo nell'offline, diciamo, nella relazione tradizionalmente intesa, cioè non nella dimensione, non nella sfera digitale. Mi è fatto venire in mente appunto anche tutte le nuove logiche di coprogrammazione e coprogettazione diffuse e supportate tanto anche dalle ultime regolamentazioni e norme giuridiche che spingono proprio verso un modello operativo e lavorativo diverso da quello a cui il terzo settore e anche la pubblica amministrazione sono state abituate finora, quindi questo rapporto non dico di sottomissione ma appunto di principale agente come si chiamava una volta dove il pubblico ridistribuiva risorse e il terzo settore diventava erogatore di questi servizi, mentre adesso sono proprio spinti anche a prendere iniziative, a proporre servizi e progetti da realizzare in collaborazione con il pubblico. E un altro aspetto molto interessante che è sottolineato è anche questa emersione di nuove professionalità o di riconversione di professionalità tradizionali e mi viene in mente anche riferito all'aspetto della comunicazione sociale perché sia la pubblica amministrazione sia il terzo settore non sono abituati a pensare di dover comunicare quello che fanno ed è difficilissimo e siamo però in un'epoca in cui sostanzialmente se non comunichiamo sembra che non esistiamo, quindi anche su questo trovo che ci sia molto da spingere e forse le piattaforme obbligano a farlo, quindi anche questo è interessante. Abbiamo sottolineato molto questo ruolo appunto del pubblico e del terzo settore, hai menzionato velocemente quello degli attori privati, questo tipo di piattaforme che nasce proprio come offerta sul mercato libero. Ti chiederei magari di approfondire questo aspetto degli attori privati, della responsabilità sociale di impresa di cui si parla già tanto, però forse le piattaforme lo esplicano in modo ancora diverso. Sì, allora in questo tipo di piattaforme quello che vediamo è una cosa interessante che abbiamo notato fin dall'inizio, è che noi parliamo di campi organizzativi, in sociologia dell'organizzazione per indicare delle organizzazioni, adesso semplificando, banalizzando anche un po' il fatto che più organizzazioni siano all'interno dello stesso campo, implica che queste organizzazioni si guardino, cioè abbiano, non ci sia solo la relazione ma ci sia anche uno sguardo reciproco. Quello che ci ha molto colpito fin dall'inizio è che tutte queste piattaforme che ho raccontato muovono tutte nell'ambito del welfare, dopodiché le piattaforme pubbliche e quelle del terzo settore si vedono, le piattaforme invece che erogano servizi direttamente ai cittadini non vedono le altre, ma proprio non si è, e guardano invece alle start-up digitali. Questo si vede, non so, anche in aspetti, i premi a cui partecipano. Se si va a vedere, a quale premio si candida la piattaforma digitale che eroga servizi alle persone? Non si candida il premio nel welfare, si candida il premio per la start-up digitale innovativa. Il mondo di riferimento è proprio un altro. Quindi in termini di isomorfismo, cioè il prendere la stessa forma di altri perché ci si osserva, si risponde un po' alle stesse regole e poi ci si osserva a vicenda e quindi c'è un meccanismo proprio anche di convergenza dettato dal fatto di vedere delle pratiche messe in campo da altri e farle proprie, anche un po' dando per scontato che se gli altri lo fanno vuol dire che quello è il modo giusto di farlo. Noi lo vediamo molto forte come meccanismo di isomorfismo, quindi di somiglianza tra le start-up, le piattaforme che erogano servizi alla persona nel privato e che si ispirano di più alle piattaforme degli altri settori. Quindi se andiamo a vedere le piattaforme che stiamo studiando, che sono piattaforme per psicologi, per babysitter, per badantia, si ispirano di più ad Airbnb, ad Amazon che non al settore del welfare, mentre nel settore del welfare segue delle logiche diverse e tra loro non c'è, proprio non si vedono. Quando intervistiamo e chiediamo chi sono i competitor, le piattaforme del terzo settore, del privato, pur essendo loro sul mercato, volendosi posizionare sul mercato perché non rispondono da dei bandi pubblici, ma stanno andando direttamente sul servizio al cittadino, offrendo dei servizi che sono gli stessi, che erogano attraverso il pubblico per soggetti deboli, ma poi quello stesso servizio che è un servizio di qualità viene proposto attraverso la piattaforma anche al cittadino. Ecco, quindi pur essendo nello stesso mercato non si vedono, non si guardano, non si considerano competitor. All'interno del mondo delle start-up native digitali, quello che vediamo è una maggiore propensione a erogare il servizio direttamente online, cioè quelle pubbliche del terzo settore fanno matching online, ma poi c'è una maggiore propensione a erogare un servizio radicato sul territorio e in presenza, per cui c'è incontro tra domanda e offerta online, ma poi servizio in presenza. In quelle native digitali invece è molto più spinta laddove possibile, perché la babysitter, insomma, badante. Però laddove invece c'è la possibilità, c'è maggiore propensione a erogare anche tutto il servizio in digitale. Quindi lì si aprono anche tutta una serie di altre domande di ricerca, per esempio noi ora abbiamo già iniziato a lavorare in questa seconda fase di studi di caso, abbiamo già iniziato a lavorare sulle piattaforme per psicologi. Allora è evidente che dalla pandemia c'è stata un'esplosione di piattaforme per psicologi, ma in particolare c'è stata un'esplosione della terapia online. Questo apre nuove domande di ricerca e altre questioni ulteriori rispetto a quelle che riguardano il semplice matching, perché cambia proprio il modo in cui si gestisce la relazione, proprio la relazione in questo caso tra psicologo e paziente, che passando dall'online è una relazione diversa, il tipo di lavoro, la quotidianità dello psicologo cambia, i gruppi di riferimento professionali cambiano, perché si creano delle reti di relazioni diverse, dei meccanismi diversi, proprio delle logiche di funzionamento della terapia online che è diversa da quella offline, e questo interroga poi in generale su tutta l'erogazione, quali sono i limiti, che cosa non si può fare online, che cosa è opportuno fare in presenza e altre domande. Anche l'altro aspetto su cui stiamo lavorando, che è molto interessante, in collaborazione diretta con psicologi clinici, stiamo cercando di capire se la terapia online possa spingere di più verso alcuni orientamenti di terapia psicologica rispetto ad altri e possa essere più coerente con alcuni orientamenti, alcune scuole rispetto ad altri e quindi possa favorire la diffusione di alcuni orientamenti alla terapia rispetto ad altri e questo boom della terapia online potrebbe quindi avere delle implicazioni proprio sulle caratteristiche proprio del tipo di terapia di clinica che si fa. Quindi in questo caso, se ho capito bene, non si tratta di piattaforme digitali che nascono come piattaforme o gruppi di servizi che vengono trasportati online, ma anche singoli servizi di welfare, visto che mi parlavi di professionisti singoli come psicologi che si trasferiscono nella sfera digitale. Sì, con tutta una serie di implicazioni che richiederebbero più tempo, però per esempio una questione che stiamo analizzando rispetto agli psicologi è il fatto che mentre tradizionalmente lo psicologo opera direttamente sul mercato e il cliente arriva, il paziente arriva allo psicologo prevalentemente attraverso segnalazione di altri psicologi, cioè il meccanismo base attraverso cui lo psicologo trova il paziente è la segnalazione dell'altro psicologo e quindi per costruirsi un proprio mercato, una propria reputazione, lo psicologo deve costruire una reputazione tra i propri colleghi e quindi il sistema di riferimento per avere lavoro è quello dei colleghi. Invece con piattaforme che intermediano il matching tra domanda e offerta interviene una struttura organizzativa, cioè proprio un'organizzazione in una dimensione che prima invece era lasciata solo al mercato e al passaparola tra colleghi. Questa dimensione abbiamo iniziato ad esplorare l'impatto di questa dimensione organizzativa, ci stiamo chiedendo per esempio se gli psicologi nel erogare la propria prestazione professionale percepiscano una dimensione di controllo da parte dell'organizzazione, se mettono in atto delle strategie scelgano intenzionalmente di fare alcune cose anziché altre per rispondere a dei meccanismi, delle logiche che sono più efficaci all'interno di una dimensione di organizzazione digitale. Per esempio stiamo studiando il ruolo delle recensioni. Anche nelle piattaforme, dove è la piattaforma fare il matching tra paziente e psicologo per esempio, cosa succede? Cioè il paziente compila un questionario. Poi in alcune piattaforme, quelle tra l'altro anche insomma più attente alla dimensione di servizio, fa un colloquio con uno psicologo che non è quello che poi farà la terapia, ma è quello che cerca di capire il bisogno di indirizzarlo al collega che presenti un profilo coerente. Dopodiché cosa succede? Quindi non c'è un meccanismo delle recensioni diretto, come nella piattaforma di babysitter che stiamo studiando dove la famiglia va sulla piattaforma, vede tutte le babysitter e i babysitter e sceglie direttamente. Qui no, qui è la piattaforma che fa il matching, però una volta che la piattaforma ha fatto il matching il paziente va sulla piattaforma e guarda il profilo del psicologo che gli è stato assegnato e legge le recensioni e a quel punto potrebbe decidere di non avviare il percorso, di richiedere di avere un altro psicologo sulla base del profilo che vede online. Quindi c'è tutta una dimensione, per esempio pubblica del profilo online degli psicologi, così come delle babysitter, così come delle badanti. Io ho trovato delle figure professionelle, le badanti hanno delle capacità di personal branding che fino a qualche anno fa si riscontravano solo tra gli influencer. Cioè io intervisto badanti che hanno un grado di riflessività rispetto all'impatto della loro presenza online del descriversi in un modo oppure in un altro, del fare la fotografia in un modo oppure in un'altra, che è dettata da una capacità di acquisizione di competenze sul campo perché riscontrava un'efficacia diretta, un impatto diretto, un meccanismo anche di sanzionamento diretto legato al fatto di presentarsi in un modo oppure in un altro. Veramente una dimensione di competenza della gestione dell'immagine digitale che fino a qualche anno fa solo Ferragni e Fedez erano in grado di gestire e oggi troviamo la badante che è il livello di Ferragni. Ecco, la loro comunicazione la sanno fare bene. Ottimo. In tutto questo quadro mi manca un attore di cui non abbiamo ancora parlato che sono i cittadini, o meglio i gruppi di cittadini più informali, perché pensavo nel welfare tradizionale, quindi fuori dalla sfera digitale delle piattaforme di cui abbiamo parlato finora, questi gruppi hanno sempre contribuito appunto in modo informale e su base volontaria a servizi di welfare territoriale, di welfare di prossimità. Nel quadro della piattaformizzazione dei servizi di welfare rimane possibile per questi gruppi di cittadini avere un ruolo e se sì, come, oppure no, non riescono avere un loro spazio? Allora, quello che stiamo vedendo è che quel ruolo continua ad esserci e passa da dimensioni di gruppi, prevalentemente gruppi digitali di vicinato, in tutte le loro forme, dal gruppo WhatsApp al gruppo Facebook alla Social Street che pur essendo informale però già prende una forma un po' più strutturale e questa dimensione c'è ancora e resta. Resta però molto più come digitalizzazione del passaparola che non come capacità organizzativa vera e propria. Il passaggio successivo, che sarebbe veramente interessantissimo e che nella progettualità di tanti interlocutori che stiamo intervistando c'è, ma nelle prassi, nelle pratiche, noi non l'abbiamo ancora intercettato, anzi se qualcuno vedendo il video dovesse segnalarci qualche esperienza sarei curiosa di studiarlo, è, e torniamo alla sharing, è l'idea di utilizzare la piattaforma non solo per erogare servizi individuali ma per costruire nuove dimensioni collettive nell'erogazione del servizio. Allora quello che appunto viene un po' prefigurato ma non ci sono ancora esperienze è la costruzione veicolata attraverso piattaforma digitale di gruppi di cittadini che possano condividere dei servizi alla persona. Questo sarebbe veramente, questa sarebbe l'interpretazione vera dello sharing e risponderebbe a più esigenze, risponderebbe a un'idea di risocializzazione dell'economia nell'ambito dei servizi di cura, che insomma sono quelli in cui è più naturale immaginarlo. Di rafforzamento delle relazioni, di prossimità e laddove ci si metta anche un po' di intelligenza potrebbe anche far cadere lo stigma del beneficiario del servizio pubblico. Immaginiamo che questa dimensione di erogazione di servizi sharing, collaborativi, condivisi, venga veicolata dall'amministrazione pubblica, con un'intelligenza dell'amministrazione pubblica che costruisce gruppi di cittadini che non sono infatti in modo omogeneo da beneficiare da soggetti deboli in un gruppo e da soggetti invece con capacità di spesa nell'altro, ma una capacità invece di costruire dei gruppi in cui si costruiscono delle relazioni trasversali. Immaginiamo la forza che potrebbe avere questo tipo di servizio per esempio nei doposcuola dei bambini. Oggi i doposcuola, i pochi che abbiamo perché i tagli alle risorse pubbliche, i pochi doposcuola che abbiamo offerti dal servizio pubblico sono fatti tutti da bambini spesso che non conoscono la lingua, che vengono da famiglie spesso di recente, che vengono da percorsi migratori recenti e che si trovano tutti insieme a usufruire di un servizio pubblico laddove c'è. Ecco immaginiamo invece che quei bambini possano usufruire insieme ad altri bambini uguali a loro, le cui famiglie hanno capacità di spesa e quindi insieme, indipendentemente da qual è il canale di accesso, usufruiscono un servizio e pensiamo al valore educativo e anche proprio di costruzione di cittadinanza che potrebbe avere questo tipo di servizio. Ecco, la piattaforma non lo fa, però può diventare uno strumento per facilitare. Di nuovo, la piattaforma ti permette di fare una cosa se tu hai l'idea di farla. Attraverso la piattaforma questi percorsi è evidente che ti può supportare nel costruire questo tipo di progettualità. Sarebbe un modo per capacitare decisamente tutti i gruppi di cittadini, sia quelli appunto che sono considerati beneficiari, sia quelli che non lo sono considerati perché non proprio in fase di bisogno. In una società, in un periodo in cui poi il rischio di avere bisogno è sempre più mutevole e anche velocemente. Quindi abbiamo visto anche appunto negli ultimi due anni come tutti noi siamo a rischio di diventare beneficiari di servizi anche in modi diversi. Se posso aggiungere una cosa veloce su questo? L'utilizzo delle piattaforme per erogare anche sussidi durante la pandemia ha permesso di intercettare persone che non erano beneficiari prima, ma che in quel periodo hanno richiesto un supporto, un sostegno, dei sussidi e che sono entrate in una sfera che permette alle amministrazioni più lungimiranti anche di utilizzare in modo intelligente i dati forniti dalle piattaforme, che è un altro tema che richiederebbe tantissimo tempo, ma anche solo in questa dimensione più semplice dell'intercettare l'area grigia, che ormai è diventata veramente senza confine sempre più grande. Da questo punto di vista la digitalizzazione dei processi con tutta l'attenzione, le cautela privacy, quello che sappiamo però consente di vedere persone che altrimenti sfuggono ai radar. Assolutamente. Bene, io sarò molto curiosa di aspettare i prossimi risultati del progetto, che non abbiamo mai menzionato, ma si chiama Weplat, c'è anche il sito, si trova online. Io ringrazio ancora una volta Ivana Pais per essere stata qui con noi. Grazie a tutti e a tutti per averci seguito e ascoltato in questa nostra conversazione. Alla prossima puntata. Grazie per aver guardato questo dialogo. Se l'avete apprezzato lasciate un like e se volete essere aggiornati su tutti i nuovi video di Pandora Rivista iscrivetevi al canale. È anche un modo per supportare il progetto.